Oggi per lo speciale 300 iscritti faremo un gameplay di Fondestroyer South Park. Questo gioco mi piace però non riesco a finirlo, faremo delle battaglie pvp cioè online con altra gente. Allora in pratica questo gioco, tu sei novellino e hai queste carte e li devi giocare contro il tuo avversario. Andiamo gioco a pvp, gioco a pvp ok, dai non ti credo, dai non li ha, vi faccio vedere, sono all'episodio 9 Passo del Drago, vi faccio vedere in pratica se questo sarei io, devo combattere contro il Drago Mago Karpon e dice che è difficile. Ok. Allora, aiuto paura, io non riesco mai a finire questo livello. Ok. Lui è a livello 6224, io sarò al 203 cappette. E come faccio? Ho il bat espazionale, ricordò, dai come lo siete? E voi dovete stare a lui e aspettare che combattano, come puoi attivare il loro potere speciale. Tipo, te lo ripeto poi, è questo. Il masticatore. Ok, Wendy, che finira, con il suo protetto qua. Ok. Ok, è molto difficile combattere dentro questo, però fa spazio e davvero molto utile, devo ammettere. Mi devo avere i tassi più forti. Esatto. Però la faccio fuori a te. No, cammini, ti sbarai le bombe. Te neanche le vende. Ehi. Mi metti un colno. No, 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 no. Cyborg Kami, Cyborg Kami. Dove te lo speciale di prendere il controllo della gente tra il filo? No, 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 no. Ok, l'ho fatto fuori subito, però che mi prendesse, grazie, ne batte. Che fai. Tyler degli alzi oscuri, incaricato ok finalmente prendiamoli vediamo che c'è in questo pacchetto 4 per spazio, 4 per spazio 5 per spazio con questa sono tutti quelli che hai all'inizio speriamo se funziona stavolta il pvp ok trovato Ok, ha avni 960 fette Ok, ha avni 960 fette Ok, non c'è un fattore Nessà vissà, vissà vissà Sì, vissà, vissà, vissà! Sì! Sì, vissà, vissà! Sì, vissà, vissà! Sì! Sì sì! Sì! Sì sì! 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 The buzzing is finally dying down! I'm a master gadgeteer Sì, perfetto Non c'è una cosinata Sì, dai, vengono tenne Ha vinto Sì, sì Sì, avviva Ok, questo E tra biglietto, sì Sì, questi sono davvero utili Posso potenziare le cacce Potenziamo lì Ok, basta Presidente Barbraili però Non l'ho avuto mai Tanto ha il vostro potenziale Questo va a un'altra Sì, adesso basta Sì, non guandi Ok, basta Un spito Nuovo livello Ok, basta Potenziale un spito Ok, non potremmo potenziale altro Tarte da scoprire, cos'è? Wow, ricompensa Ena Questo è un momento Questo pacchetto Wow Non ci credo Una lena Questo pacchetto non l'ho mai avuto Quante cazzo si suona Lava A rare card That's okay I guess Sì, guarda triste Wow, nice rare Sì, guarda E questo Fa capito Sì, sono già Scusate, è più un cane Beh, qua Non posso scattare niente? Ovviamente no Sì, va bene Cos'è? Non l'ho mai vista Sto cosa Eh, però non gioco con nessuno Io ho fatto parte Quindi In teoria non serve Cosa faccio qua? Obiettivi Wow, quante cose stavo facendo in questo video Ok Sì, però io voglio prendere Il pacchetto pvp Grazie Rare card Ha ha, rare You're such a loser Epic, that must feel good Ok, vediamo se troviamo un altro Un'altra che gioca in pvp Controlliamo Vai, combatti lo stesso Mi interessa Cerca l'avversario L'avversario ha trovato Wow Davvero velocemente Ho cambiato un po' il mazzo Mettendo potenziamento lava E il potenziamento Della sonorava aliena Ti prego non uscire Ti allirò per il resto della mia amica Ok Iari che hai Boh Ok, allora Iniziamo così No, no, combatti contro te No, no, combatti contro te Simele 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 Vagin'a Simele 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 Un'altra che N die Simele 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 Forms of combat Simele 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 Not cheating We're not alposh Like, it's usher Is that the hardest card Simele Best Hedgego Wai ee I'll never Comeware Questa città per me E' un parrot I'LL CUT YOU I'm a master gadgeteer Si, ho vinto! Che bello ho vinto Ha bellissimo ho vinto Ho vinto, Natty Tube ho vinto l'aliena l'ho avuta però ce l'ho già ma è così sono sempre molto uguali per i tattana potenzialo la lava perché così non va bene anche questo potenzialo s allora ok la ricca un uomo ciao ok io l'ho portato tutto però questo potevo porto non ho potuto potenziali nata poter spostare questi wow quanto mi piace vincere le pvp che era un pacco questo con 500 posso avere il pacchetto con me con caos e queste sono le compenze della pvp però non è che mi piacciono così tanti qua come siamo messi oh madonna questo è l'emissione da fare ok allora raga forse dico forse tra un po' crea un account discord e vi lascerò il link sotto in descrizione di tutti i video che farò per entrare nel mio canale discord se riesco a farlo mi avviso subito e se volete un'intervista non volete fare niente cioè nel senso io non vi obbligo e molto difficilmente forse mi dirò anche cioè creo anche un account twitter ma forse non so se sarà veramente così spero poi vedremo e vi farò sapere vi farò un'altra partita e chiudiamo il video perché qua già vi c'è il video che ho già sopra i 300 iscritti sai che vergogna fare il 200 iscritti il 200 iscritti lo speciale se poi facciamo altre pvp perché io cioè quelle con gli atri non riesco a farle e stai cano però se farsi le pc farsi le pc nella stagione 19 che ridere comunque South Park sabato e domenica lo fanno il pomeriggio di mattina poi al luna e due di notte lo fanno dal lunedì al venerdì su Italia 2 ovviamente beh mai tutta la 1 vero è troppo difficile vedere l'italia 1 è un po' di rettine no che l'uomo non vale è un po' di rinchiare 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 di rinchiare c'è un po' di rinchiare io ho vattuto lì ah no se dovete costrattare a morire no 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 più più è più facile no dai siamo in tantissimi stiamo a tagliare un blocco no mi ha fatto un po' di vaffa sono venate questa non non è non 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 l'attore gave vabbè comunque comunque vabbè vabbè cerchiamo noi ragazzi ci vediamo al prossimo video questo quale è lo speciale 300 iscritti ciao ciao